Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Carocci, proprio fresco fresco, dal titolo Maleficia, storie di streghe dall'antichità al Rinascimento, di Marina Montesano, che abbiamo il grandissimo piacere di avere nostra gradita ospite e a cui io come mia abitudine lascio la parola per sentire cosa ci racconta di queste streghe dall'antichità al Rinascimento. Prego Marina, a te. Grazie, grazie per l'invito, dove in effetti il libro è appena uscito, giusto il 20. Si tratta della traduzione di un libro che era già uscito pochi anni fa, nel 2018, in Inghilterra per l'editore Paul Grave, che poi abbiamo con Carocci tradotto in italiano, era stato scritto originariamente in inglese e spiegherò subito il perché e che abbiamo quindi pensato che potesse avere un interesse e rappresentare una novità anche per il mondo italiano, diciamo interessato alla storia in generale, alla storia culturale, alla storia della stregoneria e anche alla storia medievale, che è rappresentata in ampia parte, ma questo non è un libro soltanto sulla storia medievale. Dicevo quindi perché prima in inglese, perché la storia della stregoneria, che magari è un tema che incuriosisce tanti, però poi di fatto è studiato abbastanza poco e in Italia entra nell'interesse di una piccola schiera di modernisti, di studiosi della prima età, della prima età moderna, però di fatto sfiora soltanto il medioevo. Questo in parte dipende, è chiaro, da un fatto meramente cronologico, anche se uno degli stereotipi che girano intorno alla storia della stregoneria e che la stregoneria sia un fenomeno medievale e questo sappiamo che non è vero. La caccia alle streghe è un fenomeno che riguarda il rinascimento e che riguarda l'età moderna. La prima età moderna sì, in parte, ma non soltanto perché è un fenomeno che va avanti e si esaurisce soltanto nel corso del del Settecento, quindi siamo a quel punto nella piena età moderna, non certo nel medioevo. Allora perché un medievista o una medievista si interessa alla storia della stregoneria? Perché i presupposti culturali di cosa è la stregoneria per la cultura europea e perché si innesca il fenomeno della caccia alle streghe, ecco questi precedenti, noi li rintracciamo nell'età medievale e dunque studiare, come spesso succede, soltanto l'età dei processi e non conoscere ciò che ha dato il materiale per questi processi rappresenta naturalmente un importante che andava colmato. E tuttavia questo non è un libro, diciamo, non è una storia generale della stregoneria, perché di queste ne sono uscite alcune, alcune più datate, altre meno, comunque perché si volesse fare un'idea del fenomeno in generale, ci sono testi che non per niente sono scritti però generalmente da modernisti, non italiani, ma che sono stati tradotti anche in Italia, penso al testo di Levac, al testo di Beringer, quindi queste storie generali ci sono e questa non è invece una storia generale. Mi era capitato alcuni anni fa, ormai mi sa circa una decina di anni fa, di pubblicare un breve libro con l'editore Salerno che si intitola Caccia alle streghe nella collana degli aculei nel quale affrontavo alcuni dei temi generali della storia della stregoneria però sempre con un occhio soprattutto al fenomeno medievale, cioè alle origini della stregoneria, mentre invece con Maleficia, così come si chiama in italiano, il lavoro è un po' differente, perché questo è un libro che ha invece, vuole avere un tema preciso, ben specifico, che nasce da alcune constatazioni. La prima fra queste constatazioni è il, diciamo, quanto la cultura antica, classica, diciamo greco-romana, anche se il termine così è ancora un po' restrittivo, ma quanto questa cultura greco-romana abbia avuto un impatto nell'immagine della stregoneria nel Rinascimento, che se ci pensiamo è una cosa abbastanza ovvia, lo stesso termine che noi utilizziamo in italiano, strega, noi parliamo di strega generalmente al femminile, anche se il fenomeno della caccia alle streghe non ha riguardato soltanto donne, ma anche uomini, però in italiano ci viene naturale parlare di streghe, perché naturalmente lo modelliamo sul latino, la strix, le striges, o nel latino medievale la striga, come spesso si incontra, che sono naturalmente dei calchi del latino, e nel mondo latino la strix è una sorta di creatura mostruosa, e questo mostro è qualcosa a metà fra un essere umano, una donna, e una creatura invece che generalmente viene identificata con un rapace notturno, come un gufo, ad esempio, una civetta, non per niente, poi quando si faranno le classificazioni in età moderna degli animali, secondo delle famiglie, no, con dei nomi latini, in effetti tutto questo gruppo di rapaci notturni viene chiamato, non per niente, strigide, derivando proprio appunto dalle striges del mondo classico. Quindi ecco, già la lingua è una prima traccia che ci mostra come ci sia una filiazione. Questa filiazione però non è soltanto dei termini, non è soltanto lessicale, ma è invece una filiazione più profonda, perché, dicevo, è un dato in effetti che, a dirlo, sembra anche abbastanza logico. Nel Rinascimento si dà una straordinaria importanza alle fonti del mondo greco-romano, alle fonti classiche e questa riscoperta, che non è una scoperta totale, evidentemente perché il Medioevo le aveva già conosciute in larga parte molto bene, ma con un approccio differente. Erano più delle favole, delle storie, che non invece delle verità degli antichi. Mentre invece proprio il peso che si dà a queste fonti nel Rinascimento, secondo me è uno degli elementi che formano l'idea della stregoneria. Attenzione, è chiaro che questo non significa che tutto il fenomeno della stregoneria si può spiegare in base a questo, solo che altri elementi, la crisi del Trecento, gli anni difficili che seguono, la nascita di una concessione diversa del demonio, a partire dalla tarda scolastica in poi, ecco, tutti questi sono dei temi che la storiografia sulla stregoneria, la caccia alle streghe, aveva inquadrato già molto bene in passato, mentre invece questo rapporto fra il Rinascimento, cioè il periodo in cui nasce la caccia alle streghe, e invece l'età classica, non era stato studiato adeguatamente. In tutto questo evidentemente l'età che noi chiamiamo Medioevo ha un ruolo fondamentale, perché è l'età della trasmissione di una serie di concetti, di idee che poi nel Rinascimento verranno reinterpretati in una determinata chiave. Quindi quello che io faccio in questo libro è partire con due capitoli iniziali che sono dedicati uno alla Grecia e l'altro a Roma, alla Grecia e a Roma per le ragioni che ho appena detto, anche se le striges sono, così come il termine insomma è latino, ci sono delle figure nel mondo classico, nel mondo greco, anche pre-classico, che avranno poi una straordinaria fortuna. Pensiamo alla Lamia, ad esempio, la Lamia che viene descritta dalle fonti greche come probabilmente una donna che originariamente era una madre che aveva perso tutti i figli e allora per questa perdita, dopo questa perdita, dalla caccia diventa un mostro divoratore di bambini, degli altri donne. Però la Lamia allo stesso tempo noi la troviamo nelle rappresentazioni medievali, a volte come un mostro, a volte invece come una donna splendida, quindi naturalmente c'è una elaborazione poi medievale del mito e tuttavia in età classica, in età, scusatemi, rinascimentale, di nuovo emerge la Lamia con un chiaro riferimento a questa origine che noi abbiamo visto, cioè il tema dell'infanticidio, perché l'infanticidio è uno dei temi fondamentali della stregoneria e su questo è forse opportuno fermarci un attimo, perché io finora ho parlato di stregoneria, di caccia alle streghe, in che rapporto sono questi due elementi fra di loro, non soltanto nel libro, naturalmente questo viene specificato, ma diciamo anche più in generale. Spesso quando si parla di stregoneria noi naturalmente ci portiamo dietro un bagaglio che è anche fatto di letture contemporanee, di film, di una certa storiografia magari un po' facile sul tema, per cui pensiamo alla strega come a una donna che manipola le erbe, che fa la guaritrice, oppure a volte che fa l'ostetrica, eccetera. Tutto sommato spesso anche come una figura positiva, perché in questo modo positivo è stata poi reinterpretata nel corso degli anni, soprattutto del Novecento, una rivalutazione della strega come simbolo della libertà femminile contro le costrizioni del patriarcato. Ci sono appunto delle elaborazioni poi culturali più vicine a noi che danno una determinata immagine stereotipa che resta ancora nel sentire comune. E tuttavia quando noi parliamo di stregoneria parliamo di un fenomeno che è ampio e che va bene al di là delle nostre culture europee. La stregoneria viene studiata non solo dagli storici, viene studiata dagli antropologi e viene rilevata come un fenomeno potremmo dire quasi universale. Qualunque società, anche extraeuropea, conosce fenomeni di stregoneria. Quindi cosa si intende dal punto di vista degli studi sul tema per stregoneria? Non si intende qualcosa di positivo, appunto. L'immagine si restringe molto perché per stregoneria si intende la capacità di compiere azioni malefiche, da cui il titolo poi appunto maleficia, azioni malefiche o attraverso lo svolgimento di rituali. Oppure grazie a dei poteri psichici al tocco, pensate all'idea del malocchio ad esempio, cioè che alcune persone siano in grado di gettare il malocchio su altre o su animali eccetera, semplicemente guardandole, semplicemente toccandole ad esempio. Oppure, dicevo prima, mettendo in scena dei rituali. Questi rituali sono dei rituali di nuovo che attraversano le epoche, pensate alle immagini ad esempio. noi ritroviamo in un celebre passo di Orazio che mette in scena una delle sue figure più importanti, quella di Canidia, che compie un sacrificio insieme a delle sue amiche, delle sue compagne. Mette in scena il sacrificio di un ragazzo, di un bambino che viene seppellito fino al collo in modo che possa morire di fame e di sete, mentre davanti a lui vengono posti dei cibi, dell'acqua eccetera, ai quali non può attingere. E questa lenta morte, questa lenta sofferenza deve servire a distillare alcuni umori, il midollo che poi serviranno queste donne per i loro intrugli magici, soprattutto per delle pozioni d'amore. Questo è chiaramente un atto di stregoneria. Ebbene in questo rito ci sono alcune figurine che vengono rappresentate, una di pezza, una di cera. Ecco questa immagine ad esempio è quella che noi ritroviamo in altre culture e che ha dato poi il nome a tutta una serie di figurine di questo genere. Il voodoo, avrete capito, come il voodoo haitiano, appunto la bambola voodoo è quella figurina che viene sottoposta a delle torture, gli spilloni eccetera, perché in questo modo si pensa di colpire la persona che questa bambolina rappresenta. Chiamiamo voodoo di nuovo perché ha avuto fortuna la tradizione haitiana fra gli antropologi, però questa tradizione noi la ritroviamo anche nella cultura classica, appunto queste bamboline servivano esattamente a questo. Nella cultura medievale le figure di cera, ad esempio, che venivano battezzate, cioè si dava loro con un rito blasfemo, diciamo di inversione del battesimo, le si battezzava dando loro il nome della persona che si voleva colpire e poi sciogliendo queste immagini di cera, distruggendole, naturalmente si andava a colpire la vittima del rituale stregonico. Ecco questo è un esempio tipico, perfetto direi, di stregoneria, cioè una magia rituale atta a fare il male. Naturalmente quello che noi invece abbiamo, non di universale, ma come un fenomeno tipicamente europeo, la caccia alle streghe, questo appunto è un fenomeno che riguarda la nostra cultura e non invece quelle più diciamo che conoscono la stregoneria anche fuori dall'Europa. E quando parlo di cultura europea naturalmente possiamo inserirci anche Salem, gli episodi del Massachusetts, eccetera, perché in effetti hanno per protagonisti dei coloni europei che si portano dietro la loro cultura. Quindi sono in ogni caso degli esempi di caccia alle streghe europee anche in questo caso. Che cosa c'è di diverso? C'è di diverso una costruzione demonologica che parte appunto dalla tarda scolastica ma che poi avrà dei caratteri suoi propri che vediamo nella trattatistica sul tema. In altre culture certamente ci sono degli episodi antistregonici che però non hanno mai la caratteristica delle cacce alle streghe organizzate, legalizzate con un sistema giuridico in appoggio, con dei processi, eccetera, che invece è un fatto tipico della nostra cultura europea. Allora proprio per questo, proprio per l'importanza che il fenomeno ha avuto di nuovo, anche se noi tendiamo accademicamente a trattarlo come qualcosa di marginale, in realtà è stato un fenomeno centrale sotto molti punti di vista, quello processuale, i tanti processi e le tante condanne a morte che ci sono state soprattutto fra tardo medioevo e nel pieno poi dell'età moderna, ma anche per il dibattito che si è creato intorno alla stregoneria, intorno all'idea dei poteri dei demoni e quanti questi poteri potessero essere passati agli esseri umani. Ad esempio si dibatteva se il volo magico fosse un dato reale, come alcuni hanno sostenuto, soprattutto in età moderna, oppure non fosse da considerarsi, come la maggior parte anche dei teologi avevano sostenuto, come una pura illusione diabolica, esattamente secondo il pensiero di Sant'Agostino ad esempio, che resta poi vivo in tutto il medioevo e anche oltre naturalmente. Ecco quindi che intorno a questo dibattito non si spendono soltanto dei, come a volte si pensa, dei cupi inquisitori, dei frati ignoranti e così via, tutt'altro. È il centro, diciamo, se volete, anche il meglio della cultura europea che si spenderà nel dibattere su questo. Pensate che uno dei grandi sostenitori della realtà dei poteri stregonici è stato Jean Baudet, cioè il massimo interprete del pensiero politico del Tardo Cinquecento, uno dei fondatori dell'idea di Stato assoluto, uno dei teorici principali dello Stato assoluto in Francia, che pure insieme a queste opere meglio conosciute ha scritto una Demonomanie des sorcières, Demonomania delle streghe, dedicato proprio a questo tema. Quindi questo per dire che non si tratta di qualcosa di marginale, ma si tratta invece di qualcosa di centrale nella cultura europea. E proprio Jean Baudet, tra i vari elementi che porta a sostegno delle sue teorie sul perché bisogna pensare alla minaccia stregonica come a qualcosa di reale, e nemmeno soltanto a una illusione diabolica, c'è proprio, lui porta come prove proprio quello che scrivono gli antichi a riguardo. E cita le fonti, le fonti classiche, il modo in cui queste fonti parlano della stregoneria, dicendo che tutto quello che dicono torna con le confessioni dei processi. Perché nei processi le donne, negli uomini che vengono condannati per stregoneria, confessano alcune cose e queste cose ci sono già nelle fonti classiche. Così come ad esempio nella stessa epoca, cioè quindi dopo la scoperta, gli primi scritti sulle culture che si incontrano nel Nuovo Mondo, alcuni fra i conquistadores rilevano dei fenomeni di stregoneria locali e dicono, assomigliano a quelli che noi abbiamo in Europa. E allora intorno a questo si crea una sorta di teoria universale della stregoneria, per cui la stregoneria esiste da secoli se non da millenni, esiste anche al di fuori dell'Europa e questo la costituisce come una vera e propria minaccia per l'umanità che quindi va combattuta duramente con ogni mezzo a disposizione. Allora diciamo e concludo che lo scopo del libro, se vogliamo partire dalla fine, perché la fine in un certo senso è Jean Baudet, nel pensiero del Cinquecento, è proprio questo. Cioè cercare di dare un retroterra culturale alle affermazioni di Jean Baudet. Come mai lui può dire, e lo dice a giusta ragione, leggendo capirete il perché, come mai è possibile che queste fonti abbiano davvero delle coincidenze con quello che i processi dicono a riguardo della stregoneria e in che modo si è formato un musculturale che ha portato a tutto questo e allora il periodo di formazione è naturalmente l'età medievale e il rinascimento. È in questo periodo che si elabora la cultura classica in un certo modo alla luce di nuove interpretazioni e si arriva appunto a dare poi un corpo reale alle accuse di stregoneria. Ebbene, è un argomento comunque affascinante anche perché accompagna secondo me l'uomo dalla sua apparizione fino ai giorni nostri. È un filo sottile che non si è mai interrotto, che a volte è stato combattuto, altre volte è stato utilizzato e giudicato in vari modi perché a volte le streghe diventano guaritrici, a volte le guaritrici sono viste come streghe. La cosa singolare è che è molto più frequente la figura femminile di quella maschile, soprattutto diciamo per quello che riguarda la stregoneria in Europa, perché invece per esempio nei riti vudu sono quasi sempre uomini. Anche questo è un po' particolare. Diciamo che sì, certamente in Europa ci sono più streghe per stregoni, diciamo così, però non bisogna nemmeno sottovalutare il fenomeno in quest'ottica perché dalle condanne, dalle sentenze capitali che sono arrivate fino a noi, possiamo dire che un 75% sono donne e un 25% sono uomini. E anche questa percentuale del 25% significa che comunque è un fenomeno importante. Ecco, e a volte in determinate aree o in determinati periodi si ha una inversione, cioè sono più gli uomini che non le donne. Pensiamo per il tardo medioevo, cioè per il 400, a uno dei primi focolai di caccia alle streghe che è dato dall'area dell'attuale Losanna, dove fra l'altro il fenomeno è stato studiato perché ci sono dei registri processuali estremamente interessanti e ricchi sull'argomento. E quindi in quest'area inizialmente, a partire cioè dagli anni 20, anni 20, il fenomeno riguarda più uomini che non donne, cioè ci sono più condanne di uomini che non donne, che vengono identificati come un po' spesso succede nell'area francofona, almeno sotto quello che riguarda il nome, con gli eretici del tempo passato, sono chiamati cioè valdesi, pur non essendo valdesi, essendo presentati in modo completamente diverso rispetto rispetto ai valdesi, però il nome che resta loro attaccato è quello e già qui vediamo una differenza profonda perché è chiaro che qui c'è molto meno il peso della cultura classica, siamo in una zona montana, siamo in una zona appunto dell'arco alpino, veramente differente rispetto a come il fenomeno si manifesta inizialmente in Italia, dove si manifesta soprattutto nelle aree dell'Italia centrale, l'Umbria, la Toscana, con un bagaglio culturale completamente diverso e alla luce di una cultura umanistica completamente diversa. Eh beh sì, sì sì sì, decisamente l'ha studiato e per poterlo studiare e per poterlo indagare a dovere bisogna comprare il libro di Marina, quindi ricordo il titolo che è Maleficia, fra l'altro bello questo titolo, storie di streghe dall'antichità rinascimento di Marina Montessano che abbiamo avuto il grande piacere di avere in nostra gradita ospite, appena pubblicato freschissimo di stampa da Carocci. Quindi io Marina... Grazie, grazie a te, grazie a Italia Medievale come sempre per l'ospitalità. È un piacere ospitarti e anche starti ad ascoltare. Io ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove trovate tutte le nostre videopresentazioni e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.